Il degrado spunta dove non te lo aspetti. Al parco della Galleana, a pochi metri dai bambini che giocano, ci sono vestiti sgualciti fatti su a sacco per dormirci sopra. Di fianco, nel dormitorio abusivo scoperto dal fiuto del cane Lupin, meticcio di sette mesi adottato al canile di Monte Bolzone, sono stati accatastati pantaloni marroni e jeans tra le bottiglie terminate di vodka, coperti malamente dai rami che simulano una specie di desolante capanna. Intorno scarpe da ginnastica, poi un cero votivo e preservativi, gli stessi che si trovano anche in abbondanza nel labirinto, una struttura originariamente antiscoppio, che si incontra dall'ingresso più vicino alla San Corrado. Non mancano nell'elenco assorbenti usati e gettati tra gli arbusti, neppure troppo nascosti nel polmone verde della città. I cittadini lamentano degrado e al coro si uniscono quelli di via Gramsci, che segnalano un escalation di furti.